Mi presento, sono Lorenzo Seneci, sono il responsabile di divisione della divisione Pro Audio di Adeo Group SPA e oggi qui a Roma abbiamo fatto il primo evento per quello che riguarda Adeo Group interamente dedicato alla parte di audio professionale che, come sottolineavo anche prima, non è una novità per quello che riguarda Adeo, diciamo che è una crescita di quello che è il nostro catalogo che comporta il fatto che una divisione di questo tipo vada seguita in autonomia da un division manager una scelta strutturale che abbiamo fatto non solo per l'audio professionale ma anche per il video, per il rental, per la domotica e per la parte di schermi di nostra produzione e stiamo cercando anche una persona che segua la parte di home sempre per quello che riguarda l'audio video. Per quello che riguarda l'audio siamo cresciuti parecchio sicuramente solo con l'acquisizione di Bairdynamic, con la crescita esponenziale di quello che è stato il catalogo T&M finalmente riusciamo a ricoprire una fascia di applicazioni che fino a un paio di anni fa potevamo solo sfiorare adesso veramente se mi chiedono cosa non abbiamo a listino e subito c'è la risposta immediata non abbiamo mixer da banco per quello che riguarda il live ma ci stiamo lavorando al momento rimaniamo fuori da quel tipo di mercato per tutto il resto live, system integration, che sia congressuale, che sia live music, che sia public address con quattro marchi riusciamo veramente a coprire tutta la fascia di applicazioni che un system integrator può richiedere il punto di forza nostro è che per un 80% del materiale che abbiamo a listino siamo esclusi visti Italia, abbiamo una coabitazione solamente per un settore che è quello musicale con Bairdynamic poi tutto quello che vedete esposto oggi qui a Roma è tutta esclusiva adeo siamo cresciuti parecchio, non sia per quello che riguarda T&M io ricordo fino a tre anni fa T&M produceva amplificatori e un qualcosina per quello che riguardava i diffusori adesso andiamo dal public address fino al touring Bairdynamic ci porta tutto quello che è microfonia ma veramente tutto, abbiamo tour guide, abbiamo conference system abbiamo microfonia in radio, cioè veramente non ci manca più nulla ciao ciao